In balzi e in dire, vediamo di capire brevemente in questo video chi sono questi due mostri della normativa scolastica. Prima di tutto ti ricordo che come formazione diritto abbiamo creato un video manuale dove trovi tutta la legislazione scolastica da conoscere per il concorso scuola 2020. In formato audio video potrai ascoltare e riascoltare gli argomenti di quel bando di concorso in materia di normativa scolastica sul tuo tablet, sul tuo smartphone, sul tuo pc, insomma dove vuoi. Clicca dunque su scopri di più e se sei interessato vai a dare un'occhiata. Ma torniamo a invalsi e in dire. Allora prima di tutto come al solito e come dico sempre sistematizziamo i concetti. Quando parliamo di invalsi e di in dire ci riferiamo a quella branca della legislazione scolastica che è la valutazione. In un precedente video andatevelo a vedere anche su youtube ho spiegato come la normativa scolastica si possa suddividere a fine di studio in sei grandi categorie di cui una di queste è appunto la valutazione scolastica. Lavorare con questo metodo ci consente di non appunto confondersi con altri argomenti e andare subito dritti al punto. Invalsi è acronimo di istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione ed è l'ente più importante in materia di valutazione scolastica. Quali sono i suoi compiti? Allora nel video manuale trovate tutta l'elencazione precisa dei suoi poteri da conoscere. Qui però per capire e ricordare fissate bene queste tre macro categorie di intervento degli invalsi. Prima macro categoria è quella di svolgere le verifiche periodiche sulle conoscenze e sulle abilità degli studenti quindi pensate subito alle prove invalsi. Ben sapendo però che queste sono una delle cose che fa appunto l'ente invalsi ma non si identificano con l'ente invalsi stesso no perché qualcuno le confonde ancora. Seconda macro categoria di intervento è quella di creare e monitorare i procedimenti di valutazione. È proprio l'invalsi che li elabora a livello nazionale e che ad esempio predispone anche le prove per gli esami di stato. Terza macro categoria invece riguarda la formazione in materia di valutazione e anche la rappresentanza dell'Italia a livello internazionale sempre nel campo della valutazione scolastica. Quindi queste sono le tre aree di intervento dell'invalsi. Passiamo all'indire che è acronimo di istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa ed è un ente di ricerca anche questo che si articola in tre nuclei territoriali con sede a Torino, Roma e Napoli e si interfaccia poi con le singole regioni. I suoi compiti fondamentali anche qui detti in breve sono relativi alla ricerca educativa e all'innovazione didattica con competenze in particolare nel campo della formazione del personale docente, del personale non docente, dei dirigenti scolastici per l'utilizzo anche delle nuove tecnologie e l'innovazione didattica. Inoltre altra competenza è quella relativa anche alla collaborazione internazionale delle istituzioni scolastiche nei processi formativi. Infine molto importante è l'aiuto che l'indire dà ai singoli istituti scolastici nell'elaborazione del piano di miglioramento che poi è quel piano che ogni singola scuola predispone per verificare come raggiungere gli obiettivi che si è data. Quindi due enti distinti, uno cioè l'invalsi totalmente incentrato sui processi di valutazione, l'altro l'indire più dedicato all'innovazione, alla formazione e al miglioramento dei processi formativi. Molto importante da conoscere bene per il concorso scuola. Se stai studiando per questo concorso mi auguro di averti fatto una cosa gradita. Ti ricordo ancora di cliccare su scopri di più se sei interessato a prepararti sulla normativa scolastica per il concorso scuola 2020 che è fondamentale sempre selettiva ma anche allo scritto e poi all'orale. In ogni caso iscriviti al canale youtube e metti un mi piace se vuoi restare sempre aggiornato sullo studio della normativa scolastica per il concorso scuola 2020. Alla prossima! Grazie! 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 Grazie!